Jason Jason si addormentò sul lavoro. Peccato, dato che si trovava a 300 metri da terra. Avrebbe dovuto essere più accorto. Era la mattina dopo lo scontro con il bandito Shirone e Jason era di Corvè a combattere dei venti scatenati che minacciavano la nave. Quando aveva passato l'ultimo a fil di spada, si era dimenticato di trattenere il fiato. Un errore stupido. Quando uno spirito del vento si disintegra, crea un vuoto. Se non trattieni il respiro, l'aria ti viene risucchiata dai polmoni e la pressione nelle orecchie cala all'improvviso. Risultato? Svieni. Ecco cos'era successo a Jason. Peggio ancora, era precipitato subito in un sogno. In un angolo del suo subconscio pensò, davvero? Proprio adesso? Doveva svegliarsi o sarebbe morto, ma non riuscì a restare aggrappato a quel pensiero. Nel sogno si ritrovò sul tetto di un alto edificio, con lo skyline notturno di New York intorno. Un vento freddo gli sferzava i vestiti. A qualche isolato di distanza, le nubi si addensavano sopra l'Empire State Building, l'ingresso del Monte Olimpo. In cielo lampeggiavano i fulmini. L'aria odorava di metallo per la pioggia imminente. La sommità del grattacielo era illuminata come sempre, ma le luci non funzionavano bene. Passavano dal viola all'arancione, come se i colori stessero lottando l'uno contro l'altro per avere la meglio. Sul tetto dell'edificio c'erano i vecchi compagni del Campo Giove. Una schiera di semidei in armatura da combattimento, le armi e gli scudi d'oro imperiale, cintillanti nell'oscurità. Jason vide Dakota e Nathan, Leila e Marcus. Ottaviano se ne stava in disparte, magro e pallido, con gli occhi cerchiati di rosso per mancanza di sonno o per rabbia, una serie di peluscia sacrificali intorno alla vita. La sua bianca veste da auguro era drappeggiata sopra una maglietta viola e un paio di pantaloni con i tasconi. Al centro della fila c'era Reina, con Aurum e Argentum, i suoi cani di metallo, al fianco. Non appena la vide, Jason fu colto dal senso di colpa. Le aveva fatto credere che avrebbero avuto un futuro insieme. Non era mai stato innamorato di lei e non l'aveva illusa, no, ma neanche scoraggiata. Era scomparso, lasciandola gestire il campo da sola. Certo, non era stata proprio una sua idea, eppure... Ed era tornato al campo Giove con la sua nuova ragazza, Piper, e una bella compagnia di amici greci in una nave da guerra. Avevano bombardato il foro e si erano dileguati, lasciandole una guerra per le mani. Nel sogno, Reina sembrava stanca. Altri forse non l'avrebbero notato, ma Jason aveva lavorato con lei abbastanza a lungo, da riconoscere la fatica nel suo sguardo e la tensione delle spalle sotto le corregge dell'armatura. I capelli scuri erano bagnati, come se avesse fatto una doccia in fretta e furia. I romani fissavano la porta di accesso al tetto, come se aspettassero qualcuno. Quando la porta si aprì, comparvero due persone. Una era un fauno. No, un satiro, si disse Jason. Aveva imparato la differenza al campo mezzosangue, e il coach Hedge lo correggeva tutte le volte che commetteva quell'errore. I fauni tendevano a vagabondare, chiedere l'elemosina e a buffarsi. I satiri erano più servizievoli, più coinvolti nelle vicende dei semidei. A Jason sembrava di non aver mai visto quel satiro, ma era sicuro che appartenesse al versante greco. Nessun fauno avrebbe avuto un'aria così decisa, avvicinandosi a un gruppo di soldati romani nel cuore della notte. Indossava una maglietta verde del WWF con immagini di balene, tigri e altre specie in via d'estinzione. Le zampe irsute e gli zoccoli erano scoperti. Aveva una furta barbetta, i ricci castani infilati in un berretto in stile rasta, più una serie di flauti intorno al collo. Giocherellava con l'orlo della maglietta, ma da come osservava i romani studiando nelle posizioni e le armi, Jason intuì che aveva già partecipato a una battaglia. Al suo fianco c'era una ragazza con i capelli rossi che Jason conosceva, Rachel Elizabeth Dare, l'oracolo del campo mezzosangue. Aveva i capelli lunghi e un po' crespi, una semplice camicia bianca e un paio di jeans pieni di disegni a pennarello. Stringeva in mano una spazzola di plastica blu, che tamburellava nervosamente su una coscia. Jason ripensò a quella sera intorno al fuoco del campo, quando Rachel aveva recitato i versi della profezia che aveva spedito lui, Piper e Leo, nella loro prima missione insieme. Era una comune mortale, non una semidea, ma per ragioni che lui non aveva mai compreso, lo spirito di Delfi l'aveva scelta come sua ospite. La domanda era, cosa ci faceva Rachel con i romani? La ragazza avanzò di un passo, con gli occhi puntati su Reina. Hai ricevuto il mio messaggio. Ottaviano grugnì. È l'unica ragione per cui sei ancora viva. Spero che tu sia venuta per discutere dei termini della resa. Ottaviano, lo ammonì Reina. Almeno perquisisci lì, protestò l'augure. Non occorre, replicò Reina osservando Rachel Dare. Porti delle armi? Rachel scrollò le spalle. Una volta ho usato questa spazzola per colpire Crono in un occhio. Ma a parte questa non ho altro. I romani non sapevano cosa dire. Non sembrava che la mortale scherzasse. E il tuo amico? Con un cenno del mento, Reina indicò il satiro. Credevo che venissi da sola. Lui è Grover Underwood, disse Rachel, il capo del consiglio. Quale consiglio? domandò Ottaviano. Il consiglio dei satiri anziani, amico. La voce di Grover era acuta e sottile, come se fosse terrorizzato. Ma Jason sospettò che il satiro avesse più fegato di quanto desse a vedere. No, dico, non avete mai sentito parlare di natura, alberi eccetera, Roma. Ho delle notizie per voi. E poi sono un custode accreditato. Sono qui per proteggere Rachel. Reina si sforzò di non sorridere. Niente armi? Solo i flauti. L'espressione di Grover si fece nostalgica. Percy diceva sempre che la mia versione di Born to be Wild era un'arma pericolosa, ma io non credo sia così brutta. Ottaviano fece un verso di scherno. Un altro amico di Percy Jackson? A me non serve sapere altro. Reina sollevò la mano per imporre il silenzio. I cani d'oro e d'argento annusarono l'aria, ma rimasero calmi e attenti accanto a lei. Finora i nostri ospiti hanno raccontato la verità, disse. Vi avverto, Rachel e Grover. Se cominciate a mentire, la nostra conversazione finirà male. Riferite quello che siete venuti a dirci. Da una tasca dei jeans, Rachel estrasse un pezzo di carta simile a un tovagliolo. Abbiamo un messaggio. Da parte di Annabeth. Annabeth. Jason non era sicuro di aver sentito bene. Annabeth si trovava nel tartaro. Non poteva mandare un messaggio su un tovagliolo a nessuno. Magari sono caduto in acqua e sono morto, si disse. Non è una vera visione. È una sorta di allucinazione post-mortem. Ma il sogno sembrava molto reale. Jason sentiva il vento soffiare sul tetto. Percepiva l'odore della tempesta. I fulmini guizzavano sopra l'Empire State Building, facendo scintillare l'armatura dei romani. Reina prese il biglietto. Leggendolo, inarcò sempre di più le sopracciglia. Poi spalancò la bocca. Infine sollevò gli occhi e guardò Rachel. È uno scherzo? Magari, rispose la ragazza. Sono davvero nel tartaro. Ma come non lo so? Rachel si strinse nelle spalle. Il biglietto è apparso nel fuoco sacrificale della mensa. È la scrittura di Annabeth. Chiede di te. Ottaviano si agitò. Tartaro? Reina gli porse il messaggio. Leggendolo, Ottaviano borbottò. Roma? Aracne? Atena? L'Atena Parthenos? Si guardò intorno, indignato, come se si aspettasse che qualcuno contraddicesse quello che stava leggendo. È un trucco dei greci! Sono famigerati per i loro inganni! Reina riprese il biglietto e guardò Rachel. Perché chiederlo proprio a me? Rachel sorrise. Perché Annabeth è saggia. È convinta che tu lo possa fare. Reina Avila Ramire Sareiano. Per Jason fu come ricevere uno schiaffo in piena faccia. Nessuno usava mai il nome completo di Reina. Lei detestava rivelarlo a chiunque. L'unica volta in cui Jason l'aveva detto ad alta voce, solo per provare a pronunciarlo bene, lei gli aveva lanciato un'occhiata assassina. Era il nome di una ragazzina che viveva a San Juan, gli aveva spiegato poi. L'ho abbandonato quando ho lasciato Puerto Rico. Reina si accigliò. Come fai? Sei portoricana? La interruppe Grover Underwood. Ho sempre avuto un debole perle. Reina spostò la mano verso il pugnale d'oro imperiale. Cioè, no, non importa, si affrettò a dire il satiro. Senti, non avremmo rischiato di venire qui se non ci fossimo fidati del sesto senso di Annabeth. Un capo romano che restituisce la più importante statua greca al campo mezzosangue. Annabeth sa che questo potrebbe impedire la guerra. Non è un trucco, aggiunse Rachel. Non stiamo mentendo. Chiedilo ai tuoi cani. I levrieri di metallo non reagirono. Reina accarezzò la testa di Aurum con fare pensieroso. L'Atena Parthenos. Quindi la leggenda è vera? Reina! Sbottò Ottaviano. Non puoi prendere seriamente in considerazione la cosa. Anche se la statua esistesse ancora, guarda i fatti come stanno. Noi stiamo per attaccarli, per distruggere questi stupidi greci una volta per tutte. E loro radunano questa sciocca ambasciata per distogliere la tua attenzione. Vogliono mandarti incontro alla morte! Gli altri romani borbottarono, guardando i visitatori in cagnesco. Jason ricordò chiaramente quanto Ottaviano riuscisse a essere persuasivo e infatti stava attirando molti dalla sua parte. Rachel Dare si rivolse all'augure. Ottaviano, figlio di Apollo, dovresti considerare la cosa con maggiore serietà. Anche i romani rispettavano l'oracolo di tuo padre a Delphi. «Ah, tu saresti l'oracolo di Delphi!» ribatte Ottaviano in tono di scherno. «E io sono l'imperatore Nerone!» «Almeno Nerone sapeva suonare!» prontolò Grover fra i denti. Ottaviano strisse i pugni. All'improvviso il vento cambiò. Mulinò intorno i romani emettendo un sibilo, simile a un nido di serpenti. Un'aura di luce verde circondò Rachel, come se fosse illuminata da un faretto color smeraldo. Poi il vento cadde e l'alone sparì. Il ghigno abbandonò la faccia di Ottaviano. I romani mormoravano imbarazzati. «Sta a voi decidere!» disse Rachel come se niente fosse accaduto. «Non ho una particolare profezia da offrirvi, ma riesco a intravedere qualcosa del futuro!» «Vedo l'Atena Parthenos sulla collina Mezzosangue. Vedo che è lei a portarla lì!» indicò Reina. «E poi ella ha borbottato alcuni versi dei vostri libri sibillini!» «Che cosa?» la interruppe Reina. «I libri sibillini sono andati distrutti secoli fa!» «Lo sapevo!» Ottaviano batte il pugno sul palmo dell'altra mano. «Quell'arpia che si sono portati dietro dalla missione!» «Ella!» «Lo sapevo che declamava profezie!» «Ora capisco! In un modo o nell'altro, ella ha memorizzato una copia dei libri sibillini!» Reina scosse la testa incredula. «Ma com'è possibile?» «Non lo sappiamo», ammise Rachel. «Ma sì, sembra che sia andata così. Ella ha una memoria infallibile. Adora i libri!» «Da qualche parte, chissà come, ha letto il libro romano delle profezie. E adesso è l'unica fonte che abbiamo!» «I tuoi amici hanno mentito!» disse Ottaviano. «Ci hanno detto che l'arpia borbottava parole incomprensibili! L'hanno rapita!» Grover sbuffò indignato. «Ella non è vostra! È una creatura libera! E vuole stare al campo mezzo sangue! Esce con un mio amico, Tyson!» «Il ciclope!» si ricordò Reina. «Un'arpia che esce con un ciclope! Questo non ha importanza!» ribatté Ottaviano. «L'arpia è in possesso di preziose profezie romane! Se i greci non ce la restituiscono, prenderemo in ostaggio il loro oracolo!» «Guardie!» Due centurioni si fecero avanti con il pilum puntato. Grover portò il flauto alle labbra e suonò una rapida giga. Le lance si trasformarono in alberelli di Natale, che le guardie lasciarono cadere all'ibite. «Basta!» gridò Reina. Non alzava spesso la voce, ma quando succedeva l'ascoltavano tutti. «Abbiamo divagato!» proseguì. «Rachel Dare, mi stai dicendo che Anna betenne il tartaro e che ha trovato comunque un modo per mandare questo messaggio. Vuole che io porti questa statua dalle antiche terre al vostro campo!» Rachel annuì. «Solo un romano può restituirla e restaurare la pace!» «E perché i romani dovrebbero volere la pace dopo che la vostra nave ha attaccato la nostra città?» replicò Reina. «Lo sai perché?» rispose Rachel. «Per evitare questa guerra! Per riconciliare l'aspetto greco e romano degli dèi! Dobbiamo collaborare per sconfiggere Gea!» Ottaviano si fece avanti per parlare, ma Reina gli lanciò un'occhiata fulminante. «Stando a Percy Jackson, la battaglia contro Gea sarà combattuta nelle antiche terre!» disse la ragazza portoricana. «In Grecia!» «È lì che si trovano i giganti!» concordò Rachel. «Qualunque magia, qualunque rito i giganti stiano progettando per risvegliare la madre terra! Sento che accadrà in Grecia! Ma… beh, i nostri problemi non sono circoscritti alle antiche terre! È per questo che ho portato Grover a parlare con voi!» Il satiro si tirò la barbetta. «Sì, insomma, negli ultimi mesi ho parlato con i satiri e con gli spiriti della natura in tutto il continente. Dicono tutti la stessa cosa. Gea si sta destando. Insomma, è proprio sul punto di riprendere coscienza. Sussurra alle orecchie delle naia di per tentare di trasformarle. Provoca terremoti. Sradica gli alberi delle driadi. Solo la settimana scorsa è apparsa sotto forma umana in una decina di luoghi diversi, facendo tremare di paura le corna di svariati miei amici. In Colorado, un gigantesco pugno di pietra è sbucato da una montagna, schiacciando come mosche diversi partiponi. Reina corrugò la fronte. «Partiponi? È una lunga storia», tagliò corto Rachel. «Il punto è… Gea sorgerà ovunque. Si sta già agitando. Nessun luogo scamperà alla battaglia. E sappiamo che i suoi primi obiettivi saranno i campi dei semidei. Vuole distruggerci». «Tutte chiacchiere», commentò Ottaviano. «Una manovra diversiva. I greci temono il nostro attacco e così tentano di confonderci. È l'ennesimo cavallo di Troia!» Reina girò l'anello d'argento che indossava sempre, con la spada e la torcia a simboli di sua madre, Bellona. «Marcus, vai a prendere Scipione dalla stalla», ordinò. «Reina, no!» protestò Ottaviano. Reina si rivolse ai greci. «Lo farò per Annabeth, sperando nella pace fra i nostri campi. Ma non crediate che abbia dimenticato le offese al Campo Giove. La vostra nave ha sparato sulla nostra città. Siete stati voi a dichiarare guerra, non noi. adesso andate!» Grover batte uno zoccolo a terra. «Persi non avrebbe mai...» «Grover!» lo interruppe Rachel. «Dobbiamo andare!» Il suo tono di voce diceva «prima che sia troppo tardi». Quando i due emissari dei greci se ne furono andati, Ottaviano si girò verso Reina. «Sei pazza!» «Sono pretore della legione», replicò lei. «Ritengo che sia nell'interesse di Roma». «Che cosa, farti ammazzare? Oppure infrangere le nostre leggi più ferree e viaggiare nelle antiche terre? E poi come farai a trovare la loro nave, ammesso che tu sopravviva al viaggio?» «Li troverò», dichiarò Reina. «Se stanno navigando verso la Grecia, so dove Jason si fermerà. Per affrontare gli spiriti della casa di Ade gli servirà un intero esercito. E c'è un solo posto in cui può procurarsi un aiuto del genere». Nel sogno di Jason, l'edificio sembrò inclinarsi sotto i suoi piedi. Gli tornò in mente una conversazione avuta con Reina anni prima, una promessa che si erano scambiati. Capì di cosa stava parlando. «È una follia!» protestò Ottaviano. «Siamo già sotto attacco! Dobbiamo passare all'offensiva! Quei nani pelosi ci hanno rubato i rifornimenti, hanno sabotato i nostri gruppi di esploratori! Lo sai che li hanno mandati i greci?» «Forse», replicò Reina, «ma non lancerai un attacco senza un mio ordine! Continua a esplorare il campo nemico! Fortifica le postazioni! Raduna tutti gli alleati che puoi! E se prendi quei nani, spediscili di nuovo nel tartaro con la mia benedizione! Ma fino al mio ritorno, non attaccare il campo mezzo sangue!» Ottaviano socchiuse gli occhi a fessura. «Durante la tua assenza, l'augure è l'ufficiale superiore! Sarò io al comando!» «Lo so!» Reina non ne sembrava entusiasta. «Ma hai i miei ordini! Li avete sentiti tutti!» Scrutò le facce dei centurioni, sfidandoli a contestarla. Poi se ne andò, altera e sicura, con il mantello fluttuante e i cani alle calcagne. Ottaviano si rivolse ai centurioni. «Radunate tutti gli ufficiali superiori! Voglio indire una riunione non appena Reina sarà partita per la sua folle missione! Ci sarà qualche cambiamento nei piani della legione!» Uno dei centurioni fece per dire qualcosa, ma per qualche motivo parlò con la voce di Piper. «Svegliati!» Jason spalancò gli occhi e vide la superficie dell'oceano a dargli incontro alla velocità della luce.